Signori, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare della nuova skin che uscirà con l'evento della prossima settimana Alta Posta. Questa nuova skin è veramente molto figa, soprattutto perché la maschera che ha in questa foto raffigurato un cuore la potremmo cambiare con gli altri 4 semi del gioco del poker o di scala 40. Come vedete da questa immagine che ho trovato nell'account ufficiale dell'Epic su Instagram hanno messo questa foto in una storia. Il personaggio dietro, mascherato da cosplay, ha una maschera con il segno di picche quindi ci dà la conferma che la maschera sarà intercambiabile con gli altri 4 semi. Poi, se rimaniamo sempre su questa immagine, vediamo che il personaggio tiene in mano una valigia, una 24 ore che molto probabilmente sarà lo zaino di questa nuova skin. Allora, come faremo per ottenere questa nuova mimetica? Molto probabilmente sarà da acquistare lo shop e una volta acquistata ci daranno l'ingresso esclusivo per una nuova modalità di gioco a tempo limitato. Allora, mi sono informato un po' su quale potrebbe essere questa nuova modalità a tempo limitato. Ah, mi sono scordato di dirvi che insieme alla skin ci daranno gratuiti lo spray ed il piccone. Non so di quale spray e piccone si parli, credo che il piccone però sia questo, questo oggetto qui. Per quanto riguarda invece la nuova modalità a tempo limitato, ho trovato, ora ve lo faccio vedere, questo tweet di un direttore della Epic dove dice Adoro le buone rapine, sarà molto eccitato nel vedervi giocare a questa modalità. Quindi si presume sia una modalità, credo come guardie e ladri, una cosa del genere. Non so bene come potrebbe essere. E da quest'altra immagine, The Gateway, che riportava in italiano, sarebbe la fuga. Quindi non so, io penso sia tipo una sorta di guardie e ladri, una cosa del genere. Sarà molto figo comunque sia avere questa skin, molto probabilmente metterò il seme di picche sopra la maschera, e soprattutto giocare a questa nuova modalità. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, così da far sapere anche a loro quali sono le novità in arrivo su Fortnite. e ci vediamo in un nuovo video. Bella!